benvenuti su fair play oggi 26 giugno 2022 la ct milena bertolini ha rilasciato sui canali ufficiali della fcc la lista delle 23 calciatrici che prenderanno parte alla women's euro england 2022 campionato europeo che si disputerà dal 6 al 31 luglio 2022 in inghilterra dove il primo calcio d'inizio dell'evento verrà battuto all'old trafford di manchester la nazionale italiana qualificata all'europeo il 24 febbraio 2021 vincendo per 12 a 0 l'ultima gara di qualificazione contro l'israele sarà presente nel girone di insieme alla francia il belgio e l'islanda la prima sfida delle azzurre sarà contro la francia il 10 luglio l'italia parteciperà alle gare con le seguenti convocate portieri francesca durante laura giuliani difensori elisa bartoli valentina bergamaschi lisa poattin lucia di guglielmo maria luisa filangeri capitano sarah gama martina lenzini elena linari centrocampiste arianna caruso palentina cernoia aurora galli manuela giuliano martina rosucci flaminia simonetti attaccanti barbara bonanzea agnese bonfantini valentina giacinti cristiana girelli martina piemonte daniela sabatino vi ricordiamo che la competizione sarà trasmessa in diretta da rai e sky e in occasione di questo importante evento europeo annunciamo al pubblico di far play che la redazione si impegnerà a fornire aggiornamenti riguardanti la nostra nazionale azzurra femminile attraverso i nostri profili social ufficiali noi come al solito vi ringraziamo per averci seguito su far play storie di calcio storie di vita e forza azzurra si però serturini perché non è stata convocata